guardiamo che cosa stiamo creando per Halloween ecco qua in realtà è molto semplice lo faremo con un foglio a quattro però teoricamente i fogli da utilizzare sono fogli piuttosto lunghi ma dovete fare delle bellissime decorazioni comunque abbiamo preso il nostro foglio a quattro lo abbiamo diviso per lungo a questo punto lo pieghiamo a fisarmonica quindi prima spiega a metà poi ancora a metà e poi ancora a metà ecco qua quindi questo serve solo per dare la piatta il nostro foglio è pronto ora il nostro disegno lo riprendiamo da quello che abbiamo già fatto prima poi eventualmente ve lo rimettiamo sul tito così almeno non lo copiamo semplicemente vedete? una volta piegato eccolo qua la parte questa unita dovrà corrispondere alla parte centrale del viso del nostro scheletro a questo punto prendiamo una matita semplicemente ripassiamo la parte dove esce la bocca la parte del naso e gli occhi i nostri crani sono uniti da questo lato qua quindi questa parte qui non andrà tagliata prendiamo il forbice ripassiamo dove abbiamo messo il nostro disegno qui lo teniamo abbiamo detto unito dopo di che facciamo il naso con delle forbice più piccole tagliamo la bocca così prima il taglio poi i denti quindi i dettagli tutti perpendicolari facciamo anche dal lato opposto ecco qua gli occhi per quel che riguarda gli occhi si piega si può fare un semplice tondino e quindi ritagliare la propria forma di cerchio e l'effetto finale poi sarà questo vedete? una volta aperti sono così oppure si potrà fare una cosa un po' più carina e l'effetto finale e l'effetto finale è questo dell'occhio un po' spiritato allora vediamo come si va a fare l'occhio spiritato si parte quindi facendo prima un piccolo cerchietto poi si entra con le forbici all'interno e si fa una spirale senza chiaramente tagliarla vedete? a questo punto si apre si apre attenzione perché tendono un pochino a mettersi insieme e quindi rischiate di rovinare il vostro lavoro eccolo qua il nostro sferitolo mostruoso magari non ci fate tanti geli più gelifate più carino viene però poi dopo quando l'ho andato ad aprire potreste avere dei problemi eccolo qua venti si potrebbero mettere un pochino più in evidenza si possono piegare ecco 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 Buon Halloween a tutti!